Chi vuole il joystick? Allora, un joystick per te, un joystick per te, un joystick per te e ho finito il joystick. Non è vero, scherzo, c'ho il joystick anche per te. Ole, via, uno, tu devi casarla, devi dire, vai Vitto, vai. Cos'è? È un vocatore. Sì, 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 sì. Sì, sì.